La riorganizzazione della rete ospedaliera attraverso il nuovo piano regionale è sempre più di forte attualità, anche per colpa di una sanità che non sempre fa parlare bene di sé. Ma quale sarà il futuro degli ospedali casertani e particolarmente quelli dell'Alto Casertano? Si prevedono delle novità importanti e soprattutto positive? Noi abbiamo sentito Raffaele Ciaramella, sindacalista della CISL, con il quale abbiamo fatto il punto. Quali sono le novità più importanti? Le novità più importanti riguardano sicuramente il discorso dei posti letto. La provincia di Caserta è stata sempre fortemente penalizzata per quanto riguarda il rapporto tra posti letto e cittadini, perché logicamente c'erano nel conteggio totale i posti del Policlinico che è ancora un cantiere aperto e non abbiamo praticamente al momento date certe sulla sua ultima azione. Allora l'ospedale di Piedi Montematese si sta rifacendo il look, potremmo dire, ma vogliamo dire un po' più nel concreto che cosa accadrà, soprattutto per quanto riguarda le emergenze? Sì, allora innanzitutto i lavori erano ormai di estrema importanza e sono ormai quasi completati. Ci aspettiamo la conclusione di altri appalti, però l'aspetto più importante riguarda sicuramente l'incremento dei posti letto del presidio, ma soprattutto dei nuovi reparti che dovrà ospitare il presidio di Piedi Montematese, perché se è vero che col piano sanitario perde definitivamente il reparto di urologia, va a recuperare altri reparti come la lungodegenza per quanto riguarda anche il discorso della cardiologia, l'incremento dei posti letto per quanto riguarda la terapia intensiva e logicamente ci aspettiamo anche un incremento delle risorse umane, perché poi per poter garantire maggiori attività servirà logicamente maggiori risorse umane, intese sia in termini di professionisti, di dirigenti medici, sia per quanto riguarda il comparto, quindi abbiamo bisogno di personale infermeristico, abbiamo bisogno di personale di supporto, gli operatori sociosanitari, per poter continuare sia a garantire le attività attuali, ma soprattutto la riorganizzazione che prevederà logicamente questo incremento di attività. Sulla sanità è tutto, Mariangela Marotta per casertasera.it